registro che quando ti arrivano 120 mezzi navali nell'arco di poche ore non è un episodio spontaneo è evidentemente organizzato, finanziato e preparato, è un atto di guerra perché se andiamo avanti a 6.000 al giorno per la società italiana è collasso perché il problema non è solo per Lampedusa e sono vicino alla comunità di Lampedusa i vostri colleghi immagino testimonieranno la difficoltà di una piccola isola ad accogliere decine di miei persone però il problema è poi da Lampedusa che arriva a Roma, a Milano, a Torino, a Napoli, a Palermo con tutte le spiacevoli conseguenze siccome io non credo al caso, non sono un complottista penso che sia anche qualcosa di assolutamente voluto, organizzato, pianificato, finanziato anche per mettere in difficoltà un governo scopo grazie 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 grazie